e Cambaro e Semedo era Kostadinov che non riesce a chiudere per il cross perché si è portato la palla oltre la linea di fondo Kostadinov Kostadinov, Kostadinov sta per perdere la palla Maldini colto in controtempo, cerca di partire Kostadinov lo ferma irregolarmente e poi vediamo il fallo Teranio e Kostakurta è senz'altro da analizzare, vedete come questo ti punta molto bene e Cambaro, rinvio immediato di Luis Jorge l'attacco è di Kostadinov che prova il tiro da distanza